Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, alcune riflessioni a caldo sull'attentato a Donald Trump. Il tycoon americano, il candidato repubblicano alle presidenziali statunitensi, è stato colpito da uno sparo all'orecchio ed è stato poi immediatamente messo in salvo dalla sicurezza. L'attentatore, un giovane ventenne iscritto nelle liste elettorali repubblicane, un certo Thomas Matthew Crookes è stato ucciso, vi è un morto tra i militanti, tra gli spettatori e vi sono alcuni feriti gravi. Alcune riflessioni, vi dicevo, Donald Trump sta bene, è già stato dimesso dall'ospedale. Alcune riflessioni, la prima, con questo attentato ovviamente la campagna elettorale americana subisce una svolta, nulla sarà più come prima. Questo tentativo di omicidio, questo attentato, non sappiamo se ha agito da solo, se era all'interno di un progetto, è molto probabile che sia il classico anche attentatore solitario, però vedremo nei prossimi giorni. Fatto sta che una cosa è certa, a prescindere poi dalle indagini, che questo attentato rafforza indiscutibilmente la campagna elettorale di Trump, la candidatura trumpiana, che già sta volando, diciamo, di slancio, dopo i dibattiti divisivi, dopo le gaffe di Biden, verso una vittoria, così è molto probabile che la vittoria possa essere rafforzata, la possibilità di vittoria sia rafforzata. Perché? Perché Trump è stato vittimo di un attentato, potrà giustamente gridare di essere appunto vittima di nemici che lo vogliono eliminare. Ecco io che sono il candidato scomodo, vengo preso di mira, perché con me l'America cambia, perché io sono il vero cambiamento, io sono quello che può rafforzare l'America, ecco perché vengo preso di mira, ecco perché mi hanno cercato di uccidere. Dunque leverà tutta la sua forza retorica contro nemici, contro l'America, diciamo, profondamente antipopolare che lo vuole uccidere contro l'elite, lui come personaggio scomodo e poi ovviamente ne esce rafforzato per la sua reazione, la foto di lui ferito all'orecchio, che alza il pugno, dunque un leone combattente, veramente è l'antitesi quasi perfetta di un Biden barcollante, smemorato, che sbaglia i nomi, che si autodefinisce vicepresidente Kamala Harris, che scambia Zelensky per Putin, che quasi si addormenta, che sbaglia l'ingresso, sbaglia le direzioni, cioè lui il leone indomito, ferito, guerriero, dall'altra parte un rimbambito. Questa sarà la retorica Trumpiana rafforzata appunto da questa anche reazione, da questo scatto, da questa sua forma fisica, da resta dell'America in mano a un rimbambito che sbaglia nomi, cognomi, che non sa dov'è, che si addormenta, o un uomo che ha subito un attentato e che reagisce alzando il pugno come un leone indomito. L'immagine di Trump ne esce chiaramente rafforzata, dunque la campagna elettorale per i democratici, che hanno espresso massima solidarietà, ovviamente è ancora più difficile, è ancora veramente più complessa. Lungi da me ovviamente qualunque teoria del complotto, cioè non c'è nessun, secondo me, ad ora la prova che Trump sia organizzato, o lo staff di Trump abbia organizzato questo attentato, perché poi in rete ci sono i complottisti, no? Ecco che i complotti esistono nella storia dell'umanità, ci sono complotti, ci sono attentati, ci sono rovesciamenti di poteri, ci sono avvelenamenti, ci sono strategie segrete, ci sono complotti nella storia. Non mi sembra questo il caso, ma ripeto, è a caldo, vedremo quelli che ora già in rete dicono, ecco, con questo attentato si rafforza, è tutto organizzato, beh, non hanno nessuna prova e come al solito seguono un po' di pancia queste teorie dei complotti, delle cospirazioni. Ci sono le indagini? Vedremo, è anche tanto vero che spesso le indagini non portano a nulla, perché ci sono deviazioni, perché ci sono infiltrazioni, però sembrerebbe l'opera di un singolo appunto. E il fatto che sia scritto il progetto repubblicano chissà cosa vuol dire, era un modo per poter entrare, per poter avvicinarsi, i buchi alla sicurezza, come ha fatto entrare con un'arma, è un'ironia, perché in America con le armi si va quasi ovunque, però è chiaro, la sicurezza di un candidato americano dovrebbe essere maggiore della sicurezza di una scuola, ahimè, o per fortuna, non lo so, o la sicurezza di un ufficio. Dunque entrare, avvicinarsi a un comizio elettorale armato denota la facilità, allora, a fine in America, di poter circolare con le armi e anche qualche buco nella sicurezza. Però, prima riflessione, Trump ha rafforzato leone, un combattente rispetto ad un candidato invecchiato, invecchiato molto male. Seconda riflessione, è una campagna elettorale effettivamente di fuoco, di fuoco, adesso di fuoco proprio letteralmente, perché c'è stata una sparatoria, però è una campagna elettorale incandescente tra un uomo, Trump, che non riconosce le istituzioni, ha già più volte detto che se vince Biden saranno le ultime elezioni libere, che se vince Biden lui non accetterà l'esito elettorale, Trump ha alzato il tono in tutti i modi, ricordiamoci che Trump ha definito patrioti coloro che hanno marciato sul congresso, hanno marciato sul Parlamento, quel tentativo di golpe che poi alcuni hanno trasformato in un golpe appunto farlocco, fasullo, ridicolo, perché abbiamo immaginato sempre, abbiamo sempre avuto in mente l'immagine dell'uomo con il cappello da bufalo vestito da indiano, cioè abbiamo delle immagini pittoresche che hanno trasformato quel tentativo di colpo di Stato in cosa di macchettistico, c'è stato un assalto alle istituzioni con dei morti, con dei buchi nella sicurezza, cioè Trump è contro istituzioni, Trump è un pericolo reale per le istituzioni democratiche americane, dall'altra parte democratici incapaci di selezionare un fruente alla classe dirigente, non lo so, perché la classe dirigente democratica è assolutamente inadeguata nel momento in cui ha mandato in avanti un candidato come Biden chiaramente in stato confusionale. Poi sulla campagna elettorale infuocata c'è il tema del protettismo economico, c'è il tema della guerra in Ucraina, c'è il tema della striscia di Gaza, tutti questi temi stanno rendendo davanti incandescente la campagna politica americana che è durissima e violentissima anche nei toni, questa è una campagna di una nazione in crisi, di un impero che comunque è in crisi, essere in crisi non vuol dire essere in decadenza, essere fidito, essere con le spalle al muro, vuol dire che c'è comunque una trasformazione in atto, ci sono molte criticità, l'America non è più percepita nel mondo in ultimi vent'anni come la paladina della giustizia, della democrazia, ma è vista da tantissimi paesi come anzi una potenza imperialistica che compie delle ingerenze, chiaro dunque l'immagine dell'America e del mondo è ampiamente compromessa dalla guerra in Iraq in avanti e continua, questa immagine deve essere compromessa, per di più crisi interna tra la legittimità che non viene riconosciuta da un candidato all'altro, soprattutto Trump non riconosce la legittimità più volte dei democratici e dei democratici che sono, ripeto, appunto assolutamente incapaci di dare vita a una svolta autenticamente, non so, riformista, autenticamente democratica, ma siamo in periodi democratici che sono di fatto una grande lobby di potere che non sta riuscendo, ripeto, a esprimere una classe di gente credibile che sappia affrontare alcuni grandi problemi che attraversano l'America ma anche l'Europa stessa. Poi ci sono in teori democratici alcuni di questi personaggi ma sono spesso in minoranza e l'America è polarizzata, non so se avete degli amici in America o se leggete cose, se tutti in America, ma gli ambienti frappi dei democratici o dei ragazzi, dei giovani elettori democratici o degli adulti non sono più gli ambienti dei repubblicani e addirittura i repubblicani non trampiani non frequentano così più i posti dei trampiani, c'è un'America divisa in faide, non è un caso che siano usciti anche dei film che parlano di guerra civile americana perché l'America è spaccatissima. Ultima riflessione, ci sono alcune dichiarazioni interessanti, il portavoce Peskov del Cremlino ha detto che è normale che tutto ciò accada perché Trump è un candidato scomodo, dunque i trampiani europei, in questo caso anche russo, in primi russo poi europei stanno dicendo quello che dicevo è il punto primo, cioè questo attentato dimostra la forza della candidatura di Trump, vero leader scomodo, l'unico che può portare un cambiamento nell'America e dunque tutti i trampiani faranno forza, si faranno forza anche qua da noi in Italia e in Europa per sostenere Trump, presentarlo a lui come un paladino poi di sovranità e di democrazia, quando di democrazia e democratico Trump ha veramente ben poco, come uno può dire ben poco anche il prodemocratico, certamente nel loro punto anche deliri democratici non sono riusciti a dare un'immagine di se stessi autenticamente aperta ad affrontare le grandi tematiche dei cittadini. Poi bisogna essere in America per capire tutto ciò perché sui temi comunque con le scuole, ecologia, dunque ambiente, salario, il PD è molto più progressista, più aperto rispetto a Trump che comunque gioca tutto sull'identità americana ferita e tutto su una sovranità non molto forte che lo porterebbe a risolvere, lui dice, in pochi minuti la guerra in Ucraina, ma vi ricordo, lo dico a tutti quelli che hanno cuore alla causa della Palestina, che Trump è il più sionista di tutti i candidati. Non solo per mettere i puntini su lei, che Biden, che appoggia il governo Netanyahu con delle criticità, è molto più vicino, la dice lunga, a cercare una soluzione per i palestinesi di quanto non lo sia Trump, che è anti-Palestina in maniera totale. Dunque, vedete, gli elementi in campo sono tantissimi, vedremo nelle prossime ore, io proverò a fare le mie riflessioni, scrivetemi sotto cosa ne pensate. Buona domenica.